E' stata una giornata totalmente dedicata a Brescia, quella trascorsa oggi dal ministro dell'interno Cancellieri, che è tornata nella città dove per quattro anni, dal 2000 al 2003, ha svolto il ruolo di prefetto. Il legame con la Leonessa d'Italia è decisamente molto forte e reciproco. Se la città la ricorda come uno dei migliori prefetti mai avuti, l'attuale ministro dell'interno ricorda Brescia con grande affetto e nostalgia. La gioia di tornare a Brescia innanzitutto? Eh sì sì, stavo parlando appunto di questa piazza, è proprio una gioia davvero. E abitavo a poca distanza da qua, quindi è veramente una bella città. Poi guardi con che sole ci ha accolto. Chi Brescia ha ritrovato? Eh la mia fantastica Brescia di sempre. Il ministro in mattinata ha assistito all'apertura dell'anno accademico dell'Università Statale di Brescia nell'aula magna della Facoltà di Medicina. L'esponente del governo Monti si è rivolta agli studenti utilizzando una frase di Steve Jobs, il fondatore della Apple, scomparso l'anno scorso. A loro ha detto, siate affamati, siate folli. Siate affamati è spiegato perché solo una grande conoscenza vi permetterà di liberarvi di lacci e lacciuoli. Ma siete anche foolish perché solo la libertà di pensiero vi permetterà di non farvi ingabbiare. Il ministro all'entrata dell'Ateneo ha però anche dovuto affrontare la contestazione da parte di alcuni esponenti dei comitati Notav, che hanno manifestato pacificamente il loro dissenso verso quest'opera. Purtroppo è un problema che abbiamo, però l'opera va assolutamente fatta, bisogna andare avanti e speriamo di riuscire a far capire le nostre ragioni. Ecco, a cosa vorrebbe dire a chi contesta? Di riflettere molto, di riflettere molto su quello che può portare in termini di sviluppo, di sicurezza del territorio, di lotta anche all'inquinamento. È un'opera molto importante, oltre ad essere un impegno che abbiamo già preso.